Proseguono i lavori del ramale dell'acquedotto che convoglierà l'acqua dal Cretaccio, in particolare della sorgente Sass del Diavol, nelle aree situate ad ovest di Arco, Arco Nuova, e alla parte bassa dell'abitato di Chiarano. Il progetto complessivo dell'acquedotto del Cretaccio è nato per ottimizzare la gestione delle risorse idriche comunali, ha spiegato l'assessore Tommaso Ricci. Con il completamento di quest'opera si riuscirà ad utilizzare l'intera disponibilità d'acqua e quindi evitare l'utilizzo dei pozzi di pravi. Il primo lotto dell'acquedotto è entrato in funzione nella primavera del 2014 e garantisce all'abitato di Arco l'utilizzo di quasi 30 litri al secondo e la migliore acqua disponibile. Il costo della realizzazione del ramale dell'acquedotto è di 500 mila euro, a cui l'amministrazione comunale ha aggiunto altri 40 mila euro, quale propria quota parte dei lavori necessari alla manutenzione e al controllo del serbatoio ripartitore situato alle pendici nord del Monte Brione, proprio in zona del Cretaccio.